Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo Ubi di questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di BingX, exchange con sede a Singapore, ma soprattutto con una caratteristica in particolare. Le commissioni per quanto riguarda i future, che al momento risultano essere le più basse sul mercato delle criptovalute. E per cui iniziamo subito. Oggi andiamo a parlare di BingX, exchange con sede a Singapore, che sta letteralmente prendendo piede all'interno del mondo delle criptovalute. Per cui vorrei andare subito a vedere con voi questa piattaforma, che secondo me sembra fortemente interessante, in particolare se voi andate a operare sui future, perché è l'exchange con le commissioni più basse, quindi se vi piacciono le leve, sia in short che in long, secondo me è il migliore exchange al momento. Sulla piazza, come potete vedere, questa è l'interfaccia grafica, secondo me è molto, molto user-friendly, quindi molto facile da utilizzare. E come potete vedere abbiamo le principali sezioni, quindi acquista criptovalute, mercati, spot, derivati, anche il copy trading, anche se lo sapete io non sono amato il copy trading, perché? Perché essenzialmente penso che ognuno di noi abbia o che ha una testa e di conseguenza non si debba assolutamente affidare agli altri. Affidarsi a un punto di vista formativo, sì, va bene, ma non agli altri con i propri capitali, ok? Quindi questo è il primo elemento che vado a considerare. Ora, per quanto riguarda Bing X, andiamo a vedere subito quelli che sono i punti di forza, perché per quanto riguarda la sicurezza, c'è stato un report da parte di Mazzars, che vi andrò subito a mostrare, e lo stesso Bing X afferma di avere il 100%, ok, prova delle proprie riserve, che abbiamo visto come successivamente allo scandalo di FTX, uno dei principali problemi sull'exchange era proprio le riserve, e si affermano di avere come collaterali addirittura i 143 in Bitcoin, 131 in Ethereum, 113 in WSDT, e 178 in WSDT, quindi per il momento sembra un exchange più che solito. Ovviamente questo lo dicono loro, però poi c'è stato anche un report da parte di Mazzars, sapete, principali, diciamo, ente garante della sicurezza, il quale afferma, per l'appunto, in data primo dicembre del 2022, che effettivamente Bing X aveva un collaterale pari al 132% per quanto riguarda Bitcoin, 122% per quanto riguarda Ethereum, 186 per quanto riguarda WSDC, e 112 per quanto riguarda WSDT, quindi diciamo che se lo dice Mazzars, già la situazione cambia, visto che Mazzars comunque aveva riportato i dati anche su Crypto.com, e Binance recentemente, che era un pari circa al 101%. Ora vorrei andare a vedere con voi quelle che sono le principali sezioni, ovviamente abbiamo una sezione mercati, nel quale voi potete andare ad acquistare le vostre criptovalute, troviamo varie coppie, in particolare Contro WSDT, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, ADA, Doge, praticamente direi quasi tutte, ok, le più importanti, le principali, ma soprattutto secondo me la più interessante di tutte, in questo momento ovviamente avete lo spot, ok, quindi dopo andremo a vedere anche le leve, qui c'è lo spot che potete andare a operare essenzialmente a mercato o a limite, quindi mercato, ve lo ricordo, essenzialmente andate a piazzare il vostro numero, che in questo caso è il WSDT, fate acquista, ve lo va a comprare in maniera immediata, mentre a limite siete voi a decidere quello che è il prezzo, quindi ad esempio potrei acquistare Bitcoin sui 22.275, ok, per un esempio. Poi cosa secondo me molto interessante è che all'interno di Exchange, che cosa troviamo? Troviamo sia l'order book, ok, e allo stesso modo troviamo i principali strumenti di TradingView, quindi a TradingView integrato, molto interessante, potete andare a inserire ad esempio l'EMA, come vedete qui le ho già inserite, possiamo andare a inserire vari indicatori, come ad esempio l'RSI, quindi io ora scrivo l'RSI, Relative Strength Index, posso andarlo a inserire, secondo me è molto interessante il tutto, soprattutto per chi è un trader, quindi direi che per lo più questo è un exchange che si rifà ai trader, visto che è anche commissioni bassissime. Per quanto riguarda l'EVA, vi ricordo che trovate sotto il link in descrizione, o che se volete iscrivervi, ok, Bing X, anche in sostanza per andare a supportare il canale. Dopodiché andiamo a vedere i derivati, i derivati che cosa abbiamo? Abbiamo sia l'acquisto che lo shorts, ok, vendi sta per shorts, quindi potete andare a shortare ad esempio a mercato, quindi così boom immediato, oppure semplicemente con l'attivazione. Cosa prevede l'attivazione? prevede in sostanza l'utilizzo della LEVA, eventualmente se volete 5, 10, 20, 50, 100, addirittura 150X, secondo me è assurdo, che già quando si va oltre al 10 è assurdo, però diciamo se siete iteme rari, vi piacciono, ok, le LEVE. Penso che Bing X al momento sia il migliore exchange, tra quelli esistenti. Dopodiché abbiamo anche dei bonus che in questo momento stanno lanciando una campagna, quindi come vedete qui un bonus da 10 dollari, se voi andate a fare meno volumi per 6.000 dollari in cripto, direi cosa facilissima, ok, da fare, basta ad esempio fare 6 trade da 1.000 dollari, oppure un trade con 600 dollari in LEVA DCX, avete già fatto 6.000 dollari di volumi, per esempio. dopodiché lo potete integrare anche all'interno del vostro computer, se avete un app o le andate a cliccare App Store, se no attraverso Google Pay, ovviamente trovate anche la DAP per cellulare. Dopodiché ci sono ulteriori bonus, fino a, mi sembra, 5.125 dollari di bonus, quindi veramente qualcosa di pazzesco, e come vedete ad esempio io ne ho accumulate qua 2 dollari, semplicemente con un deposito di 200 dollari, quindi semplicemente vado qui a cliccare i richiedi, e potrò utilizzare, come vedete, il mio bonus che ho attivato, quindi se anche voi vi iscriverete, con il referral link che trovate sotto in descrizione, potete andare a usufruire di questi bonus, che sono essenzialmente le dano, che potete tradare. Poi secondo me, cosa molto interessante, è che avete anche le commodities, quindi ad esempio troviamo il gold, ma non solo, ne trovate tantissime altre, quindi se vi interessa anche le commodities, le trovate qui, ora io non andrò troppo a parlare dei commodities, visto che non sono esperto ai commodities, ma bensì di cripto, e soprattutto andiamo sul punto clou, ok, di questo exchange, perché? Perché questo è il principale exchange, con costi minori, tra tutti quelli esistenti, per quanto riguarda le leve. Guardate qui, il 0.04, quindi direi valori di questo tipo, difficilmente di trovate sul mercato cripto, soprattutto con un exchange, che è così solido, che con questi dati, questo ci tengo a precisarlo, letteralmente. Ora andiamo a vedere su quei market cap, anche dove si trova questo exchange, perché attualmente, si trova per quanto riguarda lo spot, in posizione 42, pensate però, con volumi di gran lunga superiore, rispetto ai altri exchange, qui abbiamo 720 milioni di volumi, nelle ultime 24 ore, meno 23%, però, tendenzialmente, ok, soprattutto ai Square Rockets, di Bitcoin, Ethereum, abbiamo visto volumi addirittura, di, un miliardo, ok, quindi cose, dettagliamente pazzesche, e vorrei mostrarvi, soprattutto, la sezione per quanto riguarda i future, perché, per quanto riguarda i future, si trova in sedicesima posizione, quindi cambia letteralmente tutto, sicuramente, sul punto di forza, sono i future, guardate qui, 9 miliardi, ok, di future tra dati, e siamo addirittura, sopra a Btrue, e addirittura, siamo, ai livelli, attualmente, di Bitcoin, e lo abbiamo passato, perché abbiamo raggiunto, i 9 miliardi, quindi, vi ricordo, BitGet, ad esempio, in posizione 6, effettivamente, Bing X, penso che, andrà a passarlo, per quanto riguarda i future, anche perché, se andiamo a vedere, il Maker Fee, e il Taker Fee, sono più bassi, su Bing X, rispetto a BitGet, concludendo, ritengo che Bing X, sia un exchange, fortemente interessante, soprattutto, se siete, degli amanti del future, perché, delle commissioni, ok, così, a basso prezzo, non li trovate, letteralmente, il mercato, e soprattutto, ricordate, la sicurezza, in questo caso, Bing X, risulta essere, fortemente solido, questo, è quello, che afferma, Mazars, e per cui, se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di, di suscrittare, like, iscrivervi al canale, e ci vediamo, presto.